Cari amici abbiamo alle nostre spalle in questa settimana alcuni eventi di grande interesse e alcuni altri eventi che hanno fatto molto rumore ma sono assolutamente insignificanti e quindi non perdiamo tempo il governo sta lavorando su due o tre ipotesi di legislazione moderna legge sulla semplificazione io credo che la semplificazione amministrativa sia uno degli obiettivi principali da perseguire se vogliamo rilanciare l'italia la palude burocratica la palude burocratico amministrativa giudiziaria è oggi il principale ostacolo al rilancio dell'italia e dunque va bene se si fa uno sforzo per semplificare in maniera radicale le procedure se si prosciuga la palude burocratica ovviamente dobbiamo evitare di fare operazioni scriteriate cioè dobbiamo evitare di fare in modo che per liberarci di un vizio non cadiamo nel vizio opposto noi dobbiamo sicuramente semplificare in maniera radicale il codice degli appalti semplificare significa realizzare opere in tempi rapidissimi significa dare respiro alle imprese significa cambiare la faccia dell'italia ma semplificare non può significare mettere l'economia del paese nelle mani della delinquenza organizzata o dei ladri allora vediamo ricapirci bene semplificare è un dovere immaginare di dare tutti gli appalti sotto una certa soglia trattativa privata significa aprire la strada alla delinquenza organizzata senza tanti fronzoli e significa espellere dal mercato le imprese serie perché quando si va trattativa privata e si chiama chi si vuole alla fine prevalgono non gli imprenditori più serie più capaci ma quelli più traffichini e più capaci di ammanigliamento e in alcuni territori dell'italia quelli che hanno alle spalle i delinquenti mi pare un discorso chiaro dunque togliamo tutto il superfluo semplifichiamo diamo fiducia ma in un contesto di trasparenza e di legalità è stato evocato il modello genova bene per me va bene io evoco un altro modello che è diverso da genova ma ha prodotto risultati eccellenti il modello universiadi che abbiamo seguito in campania in dieci mesi abbiamo realizzato il completamento ho fatto ex novo 70 impianti sportivi dieci mesi facendo le gare avendo un contesto di assoluta trasparenza mi pare che questo sia un modello che possiamo seguire efficacia rapidi di interventi ma legalità mi auguro che il governo si attesti su questa linea mi auguro anche che si faccia chiarezza rispetto ad alcuni capitoli penso la cassa integrazione mi è capitato incontrare imprenditori che mi dicono guarda la cassa integrazione in larga misura l'hanno anticipata gli imprenditori stiamo ancora aspettando il rimborso di quei soldi sono cose che credo debbano suonare un campanello allarme al governo perché facciano in modo che la liquidità le risorse finanziarie arrivino davvero alle imprese si è discusso ancora della scuola sapete che la regione campania è stata l'unica regione d'italia che non ha dato l'intesa al governo e al ministro della pubblica istruzione intanto per la scelta irresponsabile che hanno fatto di far votare il 20 settembre il che significa interferenza delle elezioni amministrative regionali e politiche con l'apertura dell'anno scolastico apro una parentesi in questi giorni abbiamo assistito al voto amministrativo in Francia noi avevamo provosto di votare dopo un mese a fine luglio ci saremmo liberati di tutti i problemi e avremmo potuto dedicare il mese di agosto inizio settembre solo alla scuola oltre che ai problemi di cassa integrazione e di rilancio dell'economia hanno fatto un'altra scelta ben premesso il nostro dissenso radicale perché hanno fatto prevalere la politica politicante sulle esigenze delle famiglie e del mondo della scuola noi ci stiamo preparando comunque visto che la decisione è stata presa a fare in modo che l'anno scolastico possa cominciare in maniera tranquilla lascio perdere tutta la valanga di chiacchiere a cui abbiamo assistito ci sono solo due o tre questioni che hanno qualche rilievo primo l'organico si pensa di cominciare l'anno scolastico senza avere i docenti a disposizione sicurezza significa anche questo partire avendo stabilizzato i docenti perlomeno la cosa non è ancora avvenuta e non credo che avverrà secondo problemi di sicurezza qui possiamo fare concretamente soltanto due cose al di là delle chiacchiere della demagogia la prima cosa è dare le mascherine a tutti gli studenti almeno delle medie e medie superiori vediamo anche per i bambini ma ovviamente non possono portare la mascherina quattro ore bambini e l'altra cosa concreta che possiamo fare fare i tamponi all'inizio dell'anno scolastico a tutto il personale docente per quello che riguarda docente non docente per quello che riguarda regione campania tutto il personale scolastico ammonterà ad oltre credo 110 mila unità noi ci stiamo preparando per fare i tamponi a tutte 110 mila le unità che fanno parte del personale scolastico questa è l'unica cosa seria che possiamo fare per tutelare la salute dei ragazzi il resto è aria fritta per quello che mi riguarda distanziamento un metro metro e venti un metro e mezzo 80 cm lasciamo lasciamo perdere per carità di patria dunque noi ci stiamo preparando a fare uno sforzo enorme per i tamponi a tutto il personale scolastico e per dotare di mascherine tutti i ragazzi e le ragazze che andranno a scuola ho visto che il ministro della pubblica istruzione ha proposto di dare un bonus alle famiglie per l'acquisto di tablet computers e quant'altro ancora una volta la regione campania anticipato il governo nazionale noi abbiamo già dato a 82 mila famiglie il bonus per comprare i tablet e i computers e abbiamo una lista già pronta a una lavoratoria di altre 160 mila famiglie che hanno fatto richiesta basta che il governo in questo caso il ministro della pubblica istruzione dia alla campania le risorse necessarie noi in tre giorni facciamo arrivare i soldi alle famiglie tre giorni sarebbe una bella prova di efficienza almeno questo credo che sarebbe ragionevole che il ministro della pubblica istruzione lo facesse nell'interesse delle famiglie terza questione di cui si discute a livello nazionale il mess non entro nelle polemiche utilizzare non utilizzare anche qui abbiamo l'abitudine a produrre chiacchiere al vento è stata fatta un'ipotesi questo mi interessa l'utilizzazione del mess come sapete ha come destinazione la materia sanitaria e tutto quello che è connesso con la materia sanitaria che è una materia sconfinata dal mio punto di vista sarebbe un atto di totale irresponsabilità non utilizzare 300 miliardi 37 miliardi materia sanitaria significa ospedali significa personale significa ricerca scientifica significa vaccinazioni assistenza agli anziani sistemi informatici ricerca farmacologica un mondo sconfinato che potrebbe essere aiutato con questi 37 miliardi questi 37 miliardi dovrebbero essere divisi fra le regioni e qui e qui emerge un problema sconvolgente che riguarda la campania come regione più penalizzata d'italia e dovrebbe riguardare anche l'italia il governo italiano dovrebbe riguardare anche quelli che hanno fatto finta di portare le bandiere tricolori in piazza il 2 giugno ma quando si tratta di far prevalere l'unità nazionale la coesione nazionale e il rispetto uguale per tutti i cittadini italiani non ci sentono più la bandiera italiana se la dimenticano che cosa voglio dire un giornale nazionale ha fatto una ipotesi di distribuzione dei 37 miliardi e questa ipotesi che qualcuno ha in testa prevede cose vergognose secondo quella ipotesi di riparto che è l'ipotesi che ricalca il riparto già fatto del fondo sanitario nazionale la campania dovrebbe ricevere 2 miliardi e 725 milioni di euro 2 miliardi e 700 il veneto 3 miliardi e 12 il veneto cioè dovrebbe avere 300 milioni di euro più della campania pur avendo quasi un milione di abitanti meno della campania il piemonte avrebbe le stesse risorse della campania 2 miliardi e 7 avendo un milione e mezzo di abitanti meno della campania l'emilia romagna 25 milioni in più avendo un milione e mezzo quasi di abitanti rispetto alla campania il lazio avrebbe 850 milioni in più rispetto alla campania pur avendo la stessa popolazione della campania la lombardia la lombardia avrebbe 6 miliardi e 158 milioni rispetto ai 27 della campania tenete conto a lombardia 10 milioni di abitanti cioè un 4 milioni più della campania dovrebbe avere diciamo due volte e mezzo non sono due volte e mezzo le risorse ipotizzate e io sto sto ad aspettare voglio vedere fino a che punto di indecenza riusciremo ad arrivare in questo paese aspetterò al varco tutte le forze politiche nessuna esclusa voglio vedere se almeno con le risorse aggiuntive badate queste sono risorse aggiuntive rispetto al fondo sanitario nazionale se almeno rispetto alle risorse aggiuntive avremo la decenza di dare ad ogni cittadino italiano le stesse risorse vi terrò informati ovviamente vedremo anche quanta parte dell'opinione pubblica nazionale avrà modo di accompagnarci in una battaglia di civiltà e di dignità nazionale oltre che di rispetto per i cittadini della campania per quanto riguarda la sanità venendo alle cose serie non faccio nessun commento rispetto vabbè abbiamo affrontato il focolaio di mondragone lo abbiamo fatto con il rigore di sempre con la tempestività di sempre abbiamo fatto i tamponi a tutti gli abitanti nelle palazzine ex cirio di mondragone sia italiani c'è una palazzina occupata italiani sia bulgari e diciamo persone di varia nazionalità abbiamo individuato oltre i primi 43 tamponi altri contagiati in una impresa agricola presso la quale lavoravano alcuni dei residenti a mondragone abbiamo deciso di istituire la zona rossa dopo 24 ore noi non abbiamo avuto dispute sulle competenze e competente il governo e competente abbiamo fatto la zona rossa nessuno entra e nessuno esce tranne la prima notte quando non c'è stata da parte delle forze dell'ordine la vigilanza adeguata per il resto abbiamo ottenuto la presenza che avevamo richiesto anche dell'esercito abbiamo prolungato di una settimana la zona rossa per arrivare ai 14 15 giorni necessari per attendere l'eventuale incubazione del virus dopo i 14 giorni rifaremo i tamponi a tutti i residenti ci auguriamo di non trovare altri positivi se dovessero esserci altri positivi saranno ricoverati nelle strutture covid ma libereremo le palazzine in condizione di sicurezza saluto e ringrazio i cittadini di mondragone saluto e ringrazio la civilissima città di mondragone faremo subito dopo questa quarantena che riguarda le cinque palazzine credo anche qualche bella iniziativa per rilanciare l'economia turistica quella agricola abbiamo produzioni straordinarie a mondragone cercheremo cioè di promuovere lo sviluppo di quel territorio non di danneggiarlo non di danneggiarlo ma di promuoverlo e di aiutarlo lo faremo come regione campania mi è capitato di ascoltare credo ieri notizie relative ad una cittadina del piemonte credo saluzzo non vorrei sbagliare dove hanno scoperto che ci sono degli stagionari di altri paesi d'europa o extra comunitari che vanno a raccogliere la frutta ho visto delle immagini paradisiache ho ascoltato la notizia o mi è parso di sentire che molti di questi stagionali dormissero nei giardini nei parchi pubblici la descrizione che è arrivata di quella realtà era simile alla descrizione di un picnic fatto sui prati fioriti non le immagini di guerra che arrivavano da mondragone gente che dormiva tranquillamente nei parchi pubblici mi è parso di rilevare una qualche diversità nel modo di presentare un problema in larga misura sovrapponibile quasi identico ma come sapete la campania appartiene alla categoria degli afflitti non dei fortunati abbiamo fatto i tamponi abbiamo fatto un lavoro rigoroso di controllo mi è parso di capire che sempre in quella cittadina si facessero i controlli della temperatura corporea e poi i controlli credo di aver capito sierologici non ho sentito i tamponi ma fossero anche i tamponi badate i controlli con i tamponi vanno fatti a prescindere dalla temperatura perché oggi il 90 per cento dei positivi sono asintomatici non hanno né febbre né tosse né problemi respiratori quindi vanno fatti comunque i tamponi noi li abbiamo fatti noi li abbiamo fatti allora credo di poter riconfermare ovviamente che la campania è oggi una campagna contagio zero focolaio in mondragone è stato isolato dobbiamo continuare a tenere gli occhi aperti quando dovesse emergere qualche problema dobbiamo denunciarlo affrontarlo e risolverlo con estrema decisione e tempestività non dobbiamo occultare nulla dobbiamo fare sempre operazioni verità a maggior ragione quando parliamo della salute dei nostri familiari e dei nostri concittadini ci stiamo preparando come dicevo un attimo fa a fare uno screening di massa sul personale scolastico contemporaneamente lavoriamo visto che siamo ormai in un contesto di sostanziale normalità anche ad aprire ospedali apriamo la prossima settimana l'ospedale di agropoli presentiamo il progetto esecutivo per l'ospedale nuovo di pozzuoli bellissimo ci stiamo preparando con acquisti tempestivi per la campagna di vaccinazione domani si inaugura all'ospedale monaldi il centro nemo una bellissima iniziativa anche con settori di volontariato a tutela dei pazienti malati di malattie neurologiche un intervento bellissimo e di grande grande valore nel frattempo è stata fatta una pubblicazione scientifica credo a parte del professore ballabbio in relazione alla scoperta di agenti che producono calcoli renali e tumori renali se ho capito bene è il pezzo di un programma di ricerca oncologica finanziato dalla regione campania per 140 milioni di euro non mi risulta che ci siano altre regioni d'italia che abbiano finanziato una linea di ricerca scientifica per 140 milioni noi lo abbiamo fatto su un obiettivo sconfiggere il cancro qualcosa poi l'abbiamo dirottata sulla risolta sulla ricerca per contro il coronavirus ma credo che abbiamo fatto uno sforzo davvero straordinario per la ricerca scientifica in campo medico mi pare che questo possa essere un altro dei punti di eccellenza che può vantare oggi con grande umiltà ma anche a testa alta sul piano nazionale in relazione alle ordinanze data la situazione epidemiologica abbiamo approvato ordinanze che in pratica consentono l'apertura di quasi tutte le attività devo dire che ormai abbiamo ripreso quasi tutto l'ultima ordinanza conferma il divieto di asporto di alcolici dopo le 22 ma liberalizza gli orari di chiusura di bar ristoranti gelaterie pub ed altri esercizi di ristorazione abbiamo approvato il protocollo di sicurezza per le attività di ballo nelle discoteche e locali similari noi autorizziamo da sabato 4 luglio però ecco se proprio non avete slanci di passione irresistibili anche nel ballo mantenete una qualche distanza via approviamo il protocollo di sicurezza per gli sport di contatto che possono ripartire dal lunedì 6 luglio calcetto basket e così via autorizziamo da subito gli eventi e le performance delle bande musicali purché impostazione fissa quindi non cortei processioni e quant'altro nel rispetto ovviamente dei protocolli di sicurezza distanziamento anche dei professori d'orchestra autorizziamo le sagre nel rispetto dei protocolli di sicurezza a partire dal 10 luglio rimuoviamo i limiti di presenza sulle imbarcazioni da diporto abbiamo il limite del 25 per cento fino ad oggi purché ovviamente nel rispetto della capienza omologata abbiamo dato mandato all'unità di crisi per fare l'istruttoria tecnica per modificare i limiti di presenza sui mezzi di trasporto regionali a cominciare dal trasporto marittimo dove è più facile credo consentire anche la presenza piena di viaggiatori la gran parte del trasporto marittimo avviene come dire su cabine aperte non al chiuso in buona sostanza abbiamo ripreso tutta l'attività economica salvo pochissime realtà per le quali credo che nei prossimi giorni avremo l'apertura piena aggiungo a questo ovviamente una informazione sul piano economico sociale della regione Campania dimenticavo di dire che abbiamo firmato un protocollo intesa per Capri con i sindaci Capri e Anacapri perché lì abbiamo un problema serio di tutela e di sicurezza per i turisti mi auguro che non succeda più quello che è successo nelle scorse settimane sul molo Beverello sugli imbarchi è necessario avere percorsi differenziati per le varie isole e garantire lì almeno il controllo delle temperature poi l'associazione albergatori e gli amministratori di Capri oltre che di Ischia Procida sono già impegnati nel rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza anche negli alberghi l'economia dunque dicevo bene abbiamo completato il pagamento di 320 milioni di euro alle piccole imprese quasi 130.000 piccole imprese hanno avuto il pagamento di 2.000 euro già da tre settimane abbiamo completato il pagamento di 1.000 euro ai professionisti abbiamo già 1.500 domande per i tassisti e per gli operatori del trasporto privato, NCC e quant'altro lunedì parte il bando per le imprese turistiche, alberghi, bed and breakfast diamo contributi fino a 7.000 euro abbiamo, questo è un capitolo importantissimo che abbiamo aperto abbiamo già pagato 3.600 aziende agricole lunedì paghiamo altre 3.000 aziende agricole abbiamo due fasce 2.000 euro, 1.500 a seconda ai dipendenti e quant'altro da lunedì paghiamo 160 imprese agricole florovivaistiche sempre da lunedì cominciano i pagamenti per le aziende agricole bufaline abbiamo già 300 pagamenti per le imprese della pesca e dell'acquacultura notizia importante per il piano per il lavoro della regione Campania altro motivo di orgoglio e di eccellenza e di unicità della Campania in Italia abbiamo varato un piano per il lavoro per 10.000 giovani i primi 2.500 vanno a lavorare già da luglio è stata pubblicata da Formez l'avviso per scegliere i giovani che sono stati selezionati devono scegliere dal 2 al 6 luglio una settimana di tempo il comune o la sede presso la quale andare a fare la formazione professionale 10 mesi di formazione pagata alla regione Campania a 1.000 euro a maggio del prossimo anno fine del programma di formazione professionale e contratto a tempo indeterminato stiamo cambiando la vita dei primi 2.500 giovani della nostra regione arriveremo a 10.000 rilancio per il buon cuore del governo nazionale la mia proposta di sempre un piano per il lavoro nazionale per 300.000 giovani del sud abbiamo dimostrato che si può fare abbiamo dimostrato che c'è domanda di giovani qualificati negli enti locali negli uffici pubblici abbiamo dimostrato che si possono fare cose di grandissima utilità in un contesto di trasparenza senza porcherie clientelari se il governo ci ripensa noi siamo pronti a lavorare a cottimo per il governo nazionale 6 mesi per far varare un piano per il lavoro per 300.000 giovani dunque vanno a lavorare finalmente dal mese di luglio i nostri giovani nel frattempo apriamo i cantieri quindi non solo un lavoro di eccellenza sul piano sanitario mi permetto di ritenere che la Campania è stata la regione che ha retto meglio di qualunque altra regione l'epidemia del coronavirus ma contestualmente abbiamo lavorato sulla parte economica per dare una mano alle imprese alle famiglie ai professionisti ai pensionati per i pensionati dimenticavo siamo orgogliosi di aver dato 1.000 euro per le pensioni al minimo sotto i 500 euro per il mese di maggio ed il mese di giugno e mi auguro che il governo aumenti le pensioni per i pensionati invalidi civili abbiamo aperto nei giorni scorsi altri due cantieri dell'Eav a metropolitana di Napoli a Capovichino e a Pozzuori lo sfondamento e l'ultimo diaframma per la galleria che consentirà il raddoppio della Cumana abbiamo consegnato altri 35 autobus nuovi dei 240 che abbiamo acquistato fra settembre e ottobre arrivano altri 200 autobus nuovi il programma della regione Campania di acquisto di autobus arriva a 1.000 autobus nuovi arriviamo a 800 già messi in gara poi con i ribassi di gara arriveremo a 1.000 autobus nel giro di un anno e mezzo giusto per darvi un termine di paragone il governo regionale precedente nei 5 anni precedenti sapete quanti autobus ha acquistato 0 l'attuale governo regionale 1000 1000 a 0 mi pare un buon raffronto sapete quanti treni nuovi ha acquistato la precedente giunta regionale 0 l'attuale governo regionale 60 treni nuovi treni non autobus 40 dei quali già consegnati mi pare un buon raffronto per l'ambiente prosegue la nostra attività prosegue la rimozione dell'ecoballe ma nei prossimi giorni andremo a Caivano dove parte un impianto che eliminerà un altro terzo di ecoballe un terzo portiamo fuori regione un terzo viene trasformato in combustibile solido che viene utilizzato alle cementerie centrali elettriche e quant'altro l'ultimo terzo di ecoballe viene sottoposto ad una nuova tritovagliatura a una separazione del materiale riciclabile il resto andrà in discarica cioè anche qui non più di un anno e mezzo e avremo risolto definitivamente il problema dei 4 milioni e 500 mila tonnellate di ecoballe che avevamo distribuito in tutta la regione campania e in modo particolare nell'area nord di Napoli e nel casertano nel frattempo ovviamente stiamo lavorando sul sistema di depurazione sui sistemi idrici e nelle gare già fatte quindi nell'apertura di cantieri per la viabilità stradale un altro mezzo miliardo di euro investito dalla regione campania nel frattempo stiamo utilizzando i residui delle universiadi dei 270 milioni che abbiamo investito da soli è un altro punto di eccellenza e di primato che la campania vanta e in questa trasmissione sono già tre o quattro primatiche mi permetto di sottolineare sempre con umiltà ecco agli occhi del nostro paese 270 milioni esclusivi finanziamenti della regione per un evento bellissimo come le universiadi ci sono avanzati 25 milioni di euro credo e abbiamo deciso di reinvestirli nel mondo dello sport con un bando che porterà 50-60 mila euro a 75 comuni di tutta la regione per piccoli impianti sportivi che sono a volte significativi aggiustare un campetto di quartiere una palestra un impianto per disabili sono cose importanti poi poi altri 15 milioni per impianti medi o medio grandi in modo particolare completiamo alcuni finanziamenti per lo stadio Collana a Napoli complessivamente altri 8 milioni copertura dello stadio San Paolo a un altro milione 200 a Fragola interventi allo stadio comunale Moccia un milione e tre a Mondragone Mondragone cari amici della civilissima città di Mondragone con buona pace di chi sapete voi un intervento di riqualificazione del campo sportivo Conte a Mondragone un milione di euro Benevento palazzetto sport dell'università del Sannio a Caserta lo stadio Pinto e così via e così via anche gli impianti allo stadio al Bricci poi ripeto i 74 comuni poi credo due altri finanziamenti per il palazzetto dello sport di Salerno da completare e il campo sportivo di Mercogliano da completare cioè un grande intervento coraggioso per le universiadi non lo voleva fare nessuno questo evento avevano paura mancava un anno e mezzo stato un atto di coraggio diciamo di lucida follia ce l'abbiamo fatta abbiamo dato una prova di efficienza straordinaria ne approfittiamo oggi per completare investimenti per dare vita ad un grande movimento sportivo in tutta la regione abbiamo abbiamo deciso poi di dare incomodato tramite il CONI gli impianti le attrezzature sportive che abbiamo comprato perché siano dati alle federazioni sportive e qualche associazione del volontariato che ha dimostrato di produrre risultati di eccellenza anche in campo sportivo abbiamo pagato 32 milioni per le borse di studio e gli studenti gennaio giugno di quest'anno stiamo lavorando in questi giorni per alcuni interventi di semplificazione amministrativa avevamo programmato di fare nel 2020 un grande intervento sulla semplificazione purtroppo abbiamo dovuto dedicarci al covid recupereremo anche fino all'ultimo giorno per fare quello che è possibile quindi stiamo riducendo della metà le pratiche necessarie per il genio civile approveremo in giunta la prossima settimana norme di semplificazione di alcuni regolamenti a vantaggio dell'ordine dei geometri vedremo come completare il lavoro sulla legge urbanistica abbiamo tempi strettissimi mi rendo conto credo che dobbiamo mantenere l'orientamento che abbiamo avuto da sempre l'urbanistica io credo debba essere in materia di consiglio regionale non di giunta regionale ma proprio dal punto di vista sostanziale oltre che dal punto di vista formale vediamo se possiamo anticipare delle modifiche legislative utili per i territori e per le imprese stiamo lavorando a produrre definire alcune idee di svolta per la città di Napoli le presenteremo a breve infine la cultura il covid la scuola i trasporti i cantieri dimenticavo che rimane in piedi il programma per dare il trasporto gratuito a 230 mila studenti della nostra regione scusateci è un'altra eccellenza della campagna sul piano nazionale chiedo sempre scusa sono piccole soddisfazioni piccole gratificazioni che ci vorranno concedere i sovranisti per la cultura abbiamo varato un programma di investimenti ed iniziative straordinarie Napoli Teatro Festival 4-5 milioni di euro avremo decine di eventi bellissimi nella città di Napoli ma in tutta la regione programma per Ravello ormai è definito parte alla fine del mese manteniamo in vita un'estate da re nella reggia di Caserta cofinanziamo con la Camera di Commercio i Salerno una bellissima iniziativa con Riccardo Muti domenica prossima Pestum un'iniziativa per la pace e di solidarietà per la Libia e per quanti combattono per la libertà contro l'Isis e per la difesa della propria comunità come stanno facendo in maniera eroica i kurdi ai quali rendiamo onore per come hanno saputo combattere contro le belve dell'Isis un onore doppio che rendiamo perché in prima fila hanno combattuto le donne kurde dando un esempio di coraggio inaudito veramente c'è da alzarsi in piedi di fronte al coraggio dimostrato da queste donne poi abbiamo deciso di finanziare oltre al programma ordinario con cui finanziamo il teatro San Carlo che lo ripeto sempre senza i contributi della regione Campania chiuderebbe domani mattina abbiamo varato un programma specifico della regione per il teatro San Carlo della regione soltanto faremo ovviamente delle bellissime inizioni è un programma che vale 5 milioni di euro non parliamo di piccole cose è un programma impegnativo ma è un modo anche indiretto per far respirare il teatro San Carlo ci saranno belle iniziative per molte settimane cominceremo a piazza del plebiscito con due tre belle iniziative molto importanti avremo iniziative del San Carlo al castello di Baia al teatro romano di Benevento al realsito di Carditello faremo iniziative con il San Carlo in tutte le università della Campania della Campania andremo ovviamente a Benevento a Salerno ancora a Napoli Sanio in musica a Benevento avremo iniziative del teatro San Carlo a Santa Maria di Castella Abate e a Solofra alla Peria nella reggia di Caserta avremo altre iniziative con Riccardo Muti e poi una iniziativa per la stagione lirica nell'ambito della quale la regione Campania sostiene la produzione di molte opere mi fermo qui credo che stiamo facendo al limite delle nostre capacità delle nostre forze fisiche della nostra tenuta nervosa della nostra resistenza stiamo facendo tutto quello che è umanamente possibile e anche di più per tutelare la vita delle nostre famiglie la serenità per mantenere sotto controllo il problema sanitario ma anche contemporaneamente per creare lavoro economia solidarietà cultura mi piacerebbe che i nostri concittadini si informassero sul panorama nazionale e verificassero quante altre regioni d'Italia hanno in corso un programma come quello di cui vi ho parlato in questo nostro incontro vi rinnovo il mio saluto il mio ringraziamento il mio appello ad essere comunque prudenti abbiamo reso facoltativo all'esterno non al chiuso al chiuso rimane obbligatorio l'uso della mascherina ma se ce la fate a tenerla la mascherina anche all'aperto tenetela è una buona regola di prudenza anche se non è più obbligatorio ma ripeto dove ci sono assembramenti è obbligatorio allora una sola raccomandazione aiutateci a tutelarvi mascherina per quanto possibile anche all'aperto lavaggio delle mani preparatevi mentalmente a farvi la vaccinazione contro l'influenza tutti tutti e per il resto per quanto sarà possibile cerchiamo di entrare anche in un clima di maggiore serenità riparte l'economia abbiamo dato una mano a tutti quelli che era possibile aiutare guardiamo con fiducia al futuro se saremo tutti quanti responsabili un grande saluto e un grande abbraccio a voi e alle vostre famiglie a voi Grazie a tutti.